Cari manettoni, oggi è una giornata produttiva. Oggi parliamo di produttività, un argomento molto discusso a livello di studio e professionalità dei musicisti. L'iPad è infatti un ottimo strumento per organizzare la tua vita da musicista. Una delle app più produttive che puoi trovare già all'interno dell'iPad è il calendario. Easy, è già lì. Con calendario puoi creare eventi e condividerli con i tuoi colleghi, oppure puoi semplicemente anche condividere dei calendari interi. Ad esempio io ho creato un calendario lavoro o conservatorio che condivido con il mio collega, così abbiamo tutto lì e siamo sempre sul pezzo. Io sono un tipo che pianifica molto e penso che sia molto importante sapere cosa stai facendo e cosa devi fare per raggiungere i tuoi obiettivi, specialmente se sei uno studente o comunque un imprenditore, perché alla fine il musicista è semplicemente un imprenditore di se stesso. Spero sia stato produttivo, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e condividete. A presto!